Io. Chi è? Buongiorno. L'onorevole Bocchino che lei prima ha citato ha, credo, in qualche modo risposto dicendo che lei non è nelle condizioni psicologiche di fare il coordinatore del PDL. Infatti devo andare dalla psichiatra più tardi. Però sono le condizioni politiche per dire che l'onorevole Bocchino non è nelle condizioni politiche di muovere accusati a nessuno perché in realtà, l'ho detto prima, il PDL che è un partito garantista, quando lui è caduto in alcune questioni di carattere giudiziario l'abbiamo difeso, l'abbiamo votato a suo favore e nessuno gli ha chiesto di dimettersi da vicepresidente vicario del più grande gruppo del Parlamento. italiano. Poi se ve lo consiglio a uno psichiatra ci vado volentieri perché a meno che chiacchiero.